Ha raccontato ai carabinieri di avere subito una rapina in casa mentre i genitori non c'erano e di essere stata legata mani e piedi. Minuti di puro terrore che si sono però rivelati alla fine completamente inventati da parte di questa ragazzina di 13 anni di Monte Catiniterme. I carabinieri della città termale si sono da subito insospettiti dal modo di fare di questi fantomatici ladri che avrebbero legato una ragazzina senza però portare via nulla dall'abitazione. Alla fine dopo una serie di sopralluoghi in casa la ragazzina stessa ha confessato di essersi inventata tutto per attirare su di sé l'attenzione dei genitori. Il motivo? Troppo lavoro e ripetute assenze da casa. Una situazione estremamente comune quella di due genitori fuori da casa per tutta la giornata a causa lavoro ma cosa c'è dietro a tentativi estremi come questo di attirare su di sé l'attenzione? Perché le richieste dell'esterno, quindi degli ostacoli che deve superare quotidianamente sono superiori alle risorse messe a disposizione, quindi dalle risorse emotive e dalle risorse interne e questo crea una problematica nell'affrontare appunto le criticità che si trovano di fronte. Cosa dire genitori? È importante captare o comunque raccogliere tutti i segnali che l'adolescente ci manda. Il lockdown ha impattato su quella che è la sfera emotiva e psicologica anche sul disagio appunto degli adolescenti. Sono aumentati i disturbi d'ansia, sono aumentati i disturbi del sonno, sono aumentati anche i comportamenti di isolamento sociale. Resta da chiarire se i genitori dell'adolescente saranno imputati per abbandono di minori ma per il momento i carabinieri non avrebbero aperto nessun fascicolo in merito.